Nella mia guida definitiva alle impostazioni e alle sensibilità su Apex Legends avevo detto che non avrei più portato altri video sulle impostazioni e sulla Sense perché quei video li ritenevo completi, ma mai dire mai alla fine, eccoci qua. Un nuovo video sulle Sense, in realtà è un video in cui vi mostro solamente la mia Sense perché l'ho cambiata negli ultimi giorni e mi ci sto trovando veramente bene, quindi ho detto perché no, magari la consiglio in un mio video e a qualcuno tornerà utile. Comunque sta di fatto che qualche giorno fa, un po' per noia, un po' perché in queste lobby di questa stagione, anche in pubs, bisogna sfoggiare insomma l'artiglieria pesante e con Rino ci siamo messi un po' a giocare con le varie Sense e abbiamo scoperto un po' l'acqua calda in realtà, una cosa che sapevamo già, ovvero che ci sono alcune sensibilità che pompano anche di brutto le aim assist. Sono stato frainteso nel video della guida definitiva alle impostazioni, l'ame assist, sia chiaro, è sempre la stessa, non è che se tu cambi la tua Sense l'ame assist passa da 0.6 a 0.8, a 1, a 1.2, l'ame assist è sempre la stessa. È la percezione che si ha dell'ame assist, ok? Di regola più hai una Sense alta, meno la percepisci. Invece più hai una Sense bassa, più dovresti percepire di regola l'ame assist. Il trucco in questo caso, quello che abbiamo provato insieme a Rino a creare, o meglio a trovare, era una sensibilità che fosse veloce ma che al contempo avesse una buona aim assist, una buona percezione dell'ame assist, ok? E ci sono tante Sense che chiaramente lo fanno. La 4.3 lineare di cui parliamo nella guida definitiva alle impostazioni è una di queste, è una sensibilità molto veloce, che ha un input molto veloce ma che anche restituisce una buona sensazione dell'ame assist, che comunque è bella forte e bella presente. Abbiamo trovato due Sense diverse, ora in questo video io vi mostro la mia Sense, quella che mi sono impostato, potrebbe sembrarvi... ecco, vabbè, arriviamo tra poco a parlare della mia Sense. Quello che stavo dicendo è che Rino ha un'altra sensibilità, che è riuscito in base alle sue necessità a crearsi, sempre sulle avanzate. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi può interessare anche la sua Sense. È una via di mezzo tra una lineare e una classica, mentre la mia è una curva di risposta classica. Detto questo vi mostro la mia Sense e dopo vi mostro anche qualche gameplay. Ah, ovviamente metto le mani avanti, lo faccio in ogni video sulle impostazioni e sulle Sense. Questa Sense va benissimo per me, mi ci trovo da Dio, veramente da Dio, però può darsi che voi mettete gli stessi identici parametri e vi trovate malissimo, sia chiaro. Però per me va molto bene e vi potrà sembrare molto strana questa Sense. Allora, partiamo dicendo che, come ho detto nel video definitivo, le impostazioni, ho giocato fino a una settimana fa 4-4 classica, con zona morta piccola. Ora, la Sense che sono andato a trovare in realtà è molto, molto, molto simile a questa, con la differenza che forse in visuale è un pochino più alta. Mi dà la percezione che sia un pochino più alta, la sensazione che sia un pochino più alta. Magari sarebbe una 5-4, però come vi dicevo prima, mettendo queste impostazioni avanzate, ho avuto una sensazione di aim assist molto diversa, molto maggiore. E soprattutto l'ipfire mi è migliorato tantissimo, lo dicevo a Rino l'altra sera. E per farne un esempio proprio lampante, la sfida del livello 40 dell'R99 vi chiede di fare 20 uccisioni, one clippando i nipfire praticamente. E ci ho messo un bel poco la Sense di prima, mentre le ultime uccisioni, le ultime uccisioni che mi mancavano le ho fatte con questa Sense in un game. Comunque, basta chiacchiere. Ecco qui la Sense. Allora, ve la mostro per intero. In realtà è molto basilare come Sense. Se andate a vedere, quasi tutti i miei fattori sono praticamente di default. Non me ne ero neanche reso conto. In realtà, inizialmente avevo messo dei valori totalmente diversi. E ogni volta che modificavo un valore, andavo in mixtape e cercavo di capire quale valore andare a modificare. E piano piano, modificando, modificando, sono arrivato a questi valori qui, che sono praticamente quasi di default, se non velocità rotazione orizzontale 250 e velocità rotazione verticale 200. Queste bisogna unire anche le impostazioni per ottica che ho settato in questo modo. Cambiano solamente il 3 e il 4x, lo tengo a 1.2. Il 4x per il cecchino mi ci trovo veramente molto bene con il longbow e il 3x per la carabina che lo trovavo fin troppo lento. E le restanti ottiche in realtà le tengo di default. Sa di fatto che questa Sense, raga, mi ha aiutato veramente, veramente tanto. Mi ci sto trovando molto bene. Ve l'ho detto, è molto simile alla 4x4 che giocavo prima. Con la differenza che sparo molto meglio in hip fair e in generale una percezione dei lame assist molto buona. Che prima ce l'avevo ma non così alta, ecco. Sicuramente migliore rispetto a prima. Può darsi che nei prossimi giorni cambierò qualche valore. In realtà so già un valore che voglio cambiare. Io voglio imparare, ragazzi, a giocare con la zona morta lineare. Quindi andrò gradualmente ad abbassare la zona morta che è 15 e altissima, me ne rendo conto. E che faccio fatica, ogni volta che l'abbasso faccio veramente tanta fatica. In questo caso, avendo trovato la Sense, posso andare ad abbassare gradualmente la zona morta, no? Oltre alla zona morta anche la curva di risposta. La curva di risposta questa dovrebbe essere classica. Rino ha trovato una curva di risposta che se non sbaglio è 3 o 5. Che è una via di mezzo appunto tra la classica e le lineare. Un po' come su COD la dinamica, per intenderci. Lui su COD giocava dinamica e ha trovato una Sense, insomma, una curva di risposta che lo aggrada. Ecco, fatemi sapere nei commenti se vi può interessare anche la Sense di Rino, come ho già detto. Sta di fatto che i valori che andrò probabilmente a toccare sono la zona morta. E probabilmente, piano piano, cambierò anche la curva di risposta. Per quanto riguarda il resto, penso che lo terrò più o meno così. Però, vuole essere questo un video più di aggiornamento di quello che sto facendo con le mie Sense. Comunque, credo che ci sia sempre un'evoluzione, no? Io l'altra volta ho detto una cosa forse sbagliata. Ovvero che la guida definitiva ad Apex Legends non farò più altri video. Ma alla fine, più tempo passi su un gioco, più scopri nuove cose, più impari anche te, no? Sto imparando anche io, negli ultimi mesi, alcune cose le ho imparate. E ovviamente ci si evolve anche a livello di player, no? Si può dire, no? Quindi, piano piano, probabilmente l'andrò a modificare anche questa. E vi terrò aggiornati. Voi provatela, magari se state cercando nuove Sense. Provatela e fatemi sapere cosa ne pensate. Detto questo, io vi rimando, se invece siete interessati a una guida completa, alle impostazioni e alle sensibilità di Apex Legends, al video che ho fatto qualche settimana fa, lo trovate qua sopra, qualche mese fa ormai, lo trovate qua sopra nelle schede. Vi lascio a qualche gameplay, fate i bravi e fate i buoni. Abbiamo fatto il devasto sto game. Grazie a tutti.